La Banca Sant'Angelo e la Fondazione Curella sponsorizzano da tre anni questa iniziativa. Nel ruolo della Fondazione è quello di sostenere le iniziative culturali del territorio, perché la Fondazione è di emanazione bancaria e la Banca Sant'Angelo è la banca del territorio a sede allicata e presente in molti comuni di questa provincia. Per cui è un vanto per noi poter sostenere queste iniziative. Non è l'unico, onestamente, perché abbiamo sostenuto nel corso dell'anno anche altre iniziative simili, come per esempio l'Efe Bodoro a Palermo, sempre nel settore cinematografico, però per i film legati alla narrativa, mentre questa iniziativa è dedicata ai corti. Dicevo che è il terzo anno e con soddisfazione vediamo che questa iniziativa cresce di anno in anno e ci auguriamo che possa raggiungere, fatto prima, dimensioni ancora più importanti, tali da poter portare i personaggi di grasso calibro e quindi di portare cultura e diffondere la cinematografia anche all'agricento.